Salve a tutti, in questo video tutorial vi indico come potete iscrivervi alla piattaforma Edmodo. Collegandovi al vostro motore di ricerca dovete digitare Edmodo. Diciamo che la prima indicazione che avete è quella corretta perché vi dice esattamente dove andare a prendere la piattaforma Edmodo in lingua italiana. Vedete che qui c'è Language It. Ci clicchiamo sopra e siamo subito inviati alla piattaforma Edmodo. A questo punto voi vi dovete creare un account come studente perché in questo momento voi siete studenti e non insegnanti. Quando poi imparerete a usare la piattaforma Edmodo come insegnante dovrete creare un nuovo account come insegnante. Come sono anch'io, in questo momento io ho sia un account da insegnante che da studente. Come insegnante vi sto inserendo i documenti di questo nostro corso. Come studente controllo che i documenti e il materiale sia stato messo correttamente. Quindi create un nuovo account gratuito come studente. Cliccate e dovete andare Crea un nuovo account Edmodo. A questo punto nelle caselle dovete mettere il nome, il vostro cognome, esattamente il vostro nome e cognome. Come io potrei mettere Maria Rossi perché è l'unico modo attraverso il quale io posso riconoscere voi come studenti e eventualmente gli studenti della mia classe virtuale, quindi i nickname, i soprannomi incomprensibili non sono opportuni. Qui inserite il codice del gruppo che vi è stato fornito e poi potete entrare con un nome utente vostro personale. Potete a questo punto mettere un nome di fantasia ma potete anche continuare a rimettere il vostro nome. Una mail facoltativa, io se volete metterla la mettete ma non è così importante. Se la mettete può essere interessante per scambiare dei messaggi. E una vostra password. A questo punto avendo compilato tutta questa mascherina vi registrate gratuitamente e la registrazione è terminata. Voi siete automaticamente registrati sulla piattaforma Edmodo con un codice di gruppo che vi invia alla piattaforma dove io ho inserito i documenti di questo corso e attraverso le vostre credenziali di accesso potete rientrare in Edmodo. Come dovete rientrare a questo punto in Edmodo? Ritorno nella piattaforma Per rientrare dopo che avete creato il vostro account gratuito qua sotto con la procedura che vi ho appena indicato dovete rientrare in questo punto qui dove c'è scritto accedi e dovete accedere alla vostra piattaforma con le credenziali di accesso cioè il nome e la password. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti.